Dopo la cena romantica ha tentato di uccidere una trentunenne buttandola dal balcone. La vittima aveva rifiutato un rapporto sessuale, ora è sotto protezione in un centro antiviolenza della capitale. Tutto è accaduto l'altra notte quando questa donna ha rischiato di morire dopo che un suo conoscente, che l'aveva invitata a cena nella sua abitazione, ha tentato un approccio sessuale, ma al rifiuto dell'ospite la picchiata e trascinata sul balcone al secondo piano del palazzo per buttarla di sotto. La vittima, di trentun anni, è riuscita però a salvarsi grazie all'intervento di un vicino che ha chiamato i carabinieri e insieme con loro ha sfondato la porta dell'appartamento riuscendo a immobilizzare l'aggressore. Quest'ultimo, di trentatré anni, è stato arrestato per tentato omicidio. Il fatto è accaduto in un palazzo di Carpinetto Romano. Alle porte di Roma i carabinieri della compagnia di Colleferro stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto mentre l'uomo si trova in carcere. Secondo la ricostruzione di chi indaga, i due si sarebbero messi d'accordo per la cena e l'uomo avrebbe anche promesso alla donna di darle 100 euro per accettare l'invito, ma la serata è andata in modo diverso rispetto a quello che da trentunenne si aspettava. Al momento, l'aggressore non è accusato anche di violenza sessuale. Dopo essere stata accompagnata in ospedale per accertamenti, la donna è stata trasferita presso il centro antiviolenza per essere assistita anche sotto il profilo psicologico, oltre che per essere messa sotto protezione. L'arresto del 33enne è stato già convalidato dal GIP.